Domenica 30 agosto 2020, con inizio alle ore 21.30, a Sapri, in località Santa Croce, avrà luogo la cerimonia di consegna del premio internazionale Carlo Pisacane, giunto alla venticinquesima edizione. Tra i premiati, la senatrice a vita Liliana Segre, che in possibilità da partecipare di persona, aprirà la serata con un proprio messaggio. Ad Antonio Mattone, editorialista del Mattino e portavoce della comunità di Sant'Egidio, della Campania, impegnato da oltre 15 anni nell'attività di volontariato in difficili realtà del mondo carcerario come poggio reale e secondigliano, andrà il premio Pisacane Sezione Speciale. La sua testimonianza avrà per titolo Il carcere e la sfida del cambiamento. Il premio internazionale Carlo Pisacane 2020 è stato, inoltre, assegnato al procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, da anni impegnato nella lotta al crimine organizzato, che terrà un alexio dal titolo Storia segreta dell'andrangheta. Previsto anche il conferimento del premio alla memoria di Angelo Vassallo, compianto sindaco di Pollica, a dieci anni dal barbaro assassinio, con la partecipazione della vedova, la signora Angelina. A presentare la serata la giornalista Antonella Grippo e Alfonso Andrea, da pochi mesi nominato presidente del centro studi Carlo Pisacane. È inoltre prevista la partecipazione di Rocco Cantisani, attore dicitore, di Ciriaco Lombardi e Carmen Fusi, che animeranno alcune scene da La spigolatrice di Satri, e di Piera Lombardi, suggestiva interprete di canti popolari e voce del Cilento.